ECODESIGN Fino ad oggi quando si è parlato di ECODESIGN a livello dell'Unione Europea si è parlato soprattutto di un design che fosse per l'efficienza energetica per noi invece è importante che si debba anche affrontare il problema dei rifiuti elettronici ad oggi secondo le stime delle Nazioni Unite ogni anno si producono circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici si riescono a riciclare circa il 20% cosa succede agli altri 80%? Tanti finiscono in discarica, tanti vengono inceneriti tanti scompaiono attraverso filiere di esportazione di prodotti elettrici ed elettronici usati e finiscono in Africa principalmente, in India, in Cina dove in alcuni casi vengono venduti come prodotti di seconda mano ma a vita breve, diventano quindi molto rapidamente rifiuti pure loro ed altri di loro invece vengono smontati, aperti, fusi in modo da poter recuperare i materiali preziosi e questo è un problema sociale enorme perché visto che nel caso degli individui si tratta di manipolare sostanze tossiche, cancerogene particolarmente e per le comunità si tratta di infiltrazioni di metalli pesanti e di altri veleni nella falda acquifera, nel terreno e chiaramente nell'aria che viene respirata per cui per noi è importante che si spinga, si sviluppi veramente la riparazione dei prodotti elettrici ed elettronici in modo che la loro vita sia la più lunga possibile Abbiamo lanciato una petizione su change.org per il diritto alla riparabilità ed erano i primi di ottobre e la risposta è stata straordinaria Attraverso questa petizione vogliamo assicurare che ci siano principi fondamentali per la riparabilità inclusi nella normativa in particolare tre cose che i pezzi di ricambio siano disponibili per tutti e per la durata più lunga possibile che i prodotti possono essere smontati spesso quando si effettua una riparazione non si riesce perché il prodotto stesso è costruito in modo tale da non poter accedere alle parti da sostituire In terza battuta è tutto quello che riguarda la documentazione quindi gli schemi tecnici e i manuali per poter effettuare le riparazioni Con questa petizione abbiamo appunto cercato di mettere veramente l'accento su questi elementi in modo che la nuova legislazione europea li contenga per il maggior numero possibile di categorie di prodotti La petizione è nata dal Regno Unito e in particolare da un progetto che è molto attivo in Inghilterra e in Scozia pure e si chiama The Restart Project Il Restart Project ha un ramo molto molto forte in Italia, Milano con i Restarters a Torino e a Firenze in Toscana e con i giacimenti urbani che è un'associazione, una rete molto molto presente nel nord Italia e direi che si sta ampliando sull'Italia centrale che ha veramente il suo focus principale nella cultura, nello sviluppo di una cultura del riuso di una cultura del riciclo, di una cultura della riparazione insomma una cultura dell'economia circolare Che cosa si può fare per prolungare la vita dei dispositivi elettrici e elettronici che si usano? Quello che noi facciamo a livello dei Restarter per esempio è un'azione realmente culturale è sviluppare abitudini che noi avevamo solamente 50 anni fa l'abitudine di cercare di aggiustare un prodotto che si rompeva anche prodotti complessi per cui un invito è quello di partecipare ad attività dove ci sono dei riparatori volontari che aiutano nella riparazione e allo stesso tempo insegnano i principi della riparazione sul web oggi ci sono delle risorse straordinarie per la riparazione ci sono ovviamente canali YouTube dove si può imparare a riparare qualunque cosa e allo stesso tempo ci sono delle piattaforme molto molto specifiche e penso in particolare a iFixit una specie di Wikipedia della riparazione con decine di migliaia di manuali accompagnati da video per la maggior parte dei prodotti e di nuovo attraverso iFixit si può veramente riprendere il controllo del prodotto Penso che l'Italia che cambia sia una realtà che cambia sui territori principalmente io ho abitato all'estero tantissimi anni, quasi 40 anni sono tornato in Italia da due anni e devo dire che mentre il potere centrale mentre le istituzioni non sono molto cambiate dal 1980 quando ero partito trovo che le realtà locali che vadano da nuove forme di produzione alimentare che veramente valorizzano il territorio ad altre realtà che sono realtà di tipo molto più urbano e molto più sociale è dove veramente l'Italia sta cambiando ai miei occhi quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi